Il secondo lotto del porto di Sant'Erasmo, ne siamo fieri, siamo orgogliosi, il comune ci ha restituito la villa che cercheremo di tenere in modo ordinato, di ripiantumare, di mettere le siepi, insomma di creare e costruire un meraviglioso giardino. Abbiamo fatto questi 300 metri di passeggiata con una grande gradinata che guarda il mare, due aree attrezzate, una per il fitness e una per i bambini, ecco in continuità con quanto avevamo fatto nel corso del 2018 all'inizio della mia avventura qua a Palermo nella riqualificazione proprio del porticciolo di Sant'Erasmo. Il concorso internazionale va nelle direzioni di far capire che c'è grande sinergia tra comune e autorità portuale, insieme abbiamo costruito e vogliamo costruire un percorso che finalmente identifichi il waterfront nella sua interezza partendo dalla costa sud arrivando al molo sud e questo per noi è importante perché avere un'idea progettuale di insieme certamente ci aiuterà e aiuterà anche il comune per le aree di propria competenza a muoversi con maggiore determinazione e con grande velocità. Grazie